Viaggio attraverso i cantieri del terzo valico ferroviario Genova-Milanio in odore di allungamento dei tempi a causa del blocco della talpa che sta operando nella galleria tra Arquata Schivri e Voltaggio, già scavata per 7,5 km, in realtà sono due gallerie. Poi il terreno friabile ha bloccato le talpe a circa 1,5 km dall'uscita, si rischia addirittura un triplicamento dei tempi, con la talpa ci vorrebbe un annetto per sbucare a voltaggio, se si dovesse usare uno scavo tradizionale potrebbero volerci addirittura tre anni. Qua dove siamo? Siamo sulla Libarna, vicino a Arquata, l'antica Libarna, e praticamente qua sotto sbucano le due gallerie che arrivano da Novi Ligure. Lunghe quanto? 8 km. Scavate anche loro con la talpa? Anche loro con la talpa. E laggiù vediamo per la prima volta una concretizzazione della parte all'aperto del terzo valico, in quella diciamo grande scia di asfalto nasceranno i binari? Sì, ci saranno i binari, il doppio binario, uno che va verso Milano, l'altro che va verso Genova, e laggiù invece c'è l'imbocco. In fondo c'è una galleria? L'imbocco che praticamente va a finire sul cantiere che in questo momento è bloccato. Sempre a Arquata scrive, a quanto è lunga questa galleria? Questa è pochissima, un chilometro, un chilometro e due. Ed è già stata completata con scavo tradizionale e non con la talpa? Sì, con scavo tradizionale negli anni passati. Dunque vedremo come si risolverà l'impasse dovuta proprio al blocco della talpa nel cantiere successivo.